Questo è un lavoro che abbiamo iniziato da un anno, io ero un produttore, facevo musica E ho avuto un'amicizia che mi ha spinto ad ascoltare il reggae, io ho iniziato ad ascoltarlo fino a due anni a questa parte Ascoltando il reggae è nato un amore in più per la musica, io amo la musica da una vita, suono, il pianoforte Però quando ho ascoltato il reggae ho avuto un'ispirazione maggiore, tanto è che mi ha portato a fare qualcosa di più serio Quindi sta lavorando sui progetti reggae da un anno e sta spiegando musica da un largo tempo Penso che è un pianoforte, probabilmente ha avuto un trattamento classico E poi ho avuto un amico che lo ha introdurato al reggae e aveva questo amico con il reggae che si sviluppa e si sviluppa e ora il reggae è sentito il suo amico per la musica più autentica, più forte e più forte e queste sono le ultime produzioni e come ti ho detto, le prime, ma questo progetto ha avuto un anno e poi ho incontrato un amico mio che scherzava facendo reggae in classe, a scuola, parlando in salentino, in dialetto e poi conoscendo lui che stavo iniziando a cantare in giamaicano e ho avuto l'idea di fonderli insieme io facevo le basi e loro cantano e quindi siamo in teoria arrivati a buon punto però comunque ancora c'è del lavoro da fare, saranno un po' da sistemare e niente, abbiamo un po' di genere, abbiamo anche un reggae più roots, più tranquillo e poi c'è anche una canzone che c'è anche del drum and bass all'interno, dell'elettronica e vi faccio ascoltare è il mio figlio che mi portano a regga e è un cantico che cantano in giamaica ma c'è un altro amore, un altro amore da scuola, che dice il Salento di Dialecto. Quindi abbiamo tutti i cantori e... si muove inizia a diversi tipi di musica, come alcuni suoni sono root e alcuni suoni hanno un'electronica in quelli, con un po' di drum e bass in quelli. Ok. Allora. 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 come ad esempio come ad esempio come ad esempio and that kind of keep the dance going you know, when you go the song engineer Barbie is the beat maker ok, ok ok, so that's the first thing I heard that's the first thing I heard but other than that, you know good vibe, you know it's got a good vibe but it doesn't have something forse si è anche capito diceva che il ritmo è molto lento like a sixteenth you know, a sixteenth beat it lui avrebbe messo un charleston più deciso right but good job groovy diciamo eeeeeh the 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 Grazie a tutti. 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 È difficile sentire bene e sentirlo dettagliato qui con questo riverbero, però gli piace l'energia, gli piace molto l'energia di questo pezzo e crede che tutti i vari elementi che ci sono funzionino bene, cioè fanno quello che devono fare. E' un'energia di un'energia di un'energia di un'energia. Grazie a tutti. 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 ma sicuramente in terms of, you know, you see that your middle is very big, the skank is very big, and the kick is also like light, you know what I mean? So you want the attack, but not too much attack, because you want some gut, you know, right? But the potential is excellent drop, you know, just need, you know, little sprinklings, you know? Eh, 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 eh. Anche in questo caso, un drop eccellente, con 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 i medi molto forti, dicevo anche in questo caso che proprio non si sente per niente il Charleston come nelle altre tracce, però dice che è assolutamente necessario dal suo punto di vista. Mi sono dimigrato qualcosa. ok volete dirgli qualcosa già gli avete detto volete presentare questa è una produzione che abbiamo fatto con Adriano Sherwood ovviamente non stiamo giocando la musica che è giocata da Reddix e che sono originali ricordi ci vogliamo mostrare questo è la forma di lavorare su harmonica sui 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 a ciccio cosa ho detto ho detto che facciamo ascoltare questa canzone di Maria perché non sicuramente per chiedere queste canzoni un consiglio sulla musica perché perché la musica è stata suonata da gente come Reddix e altri ma facciamo ascoltare questo perché discutendo ieri con Clinton ci siamo ritrovati sull'utilizzo delle armonie cioè dell'essere proprio dei fanatici come siamo io e Maria noi siamo proprio malati delle armonie vocali ci piace questa cosa ci piace portarlo all'estremo e anche a lui perciò vogliamo fare ascoltare a lui proprio questa cosa qua va bene cosa facciamo ascoltare questa canzone è in italiano e il nome è Camminero come me I'm gonna walk I'm gonna walk I'm gonna walk le cose accadono e ritornano se tu che cambia e non lo sai se guardi bene nel presente c'è un passato che non scorderai è custodito coi segreti e i mille errori coi dolori per cui non sbagli mai più la vita si comprende guardando indietro simboli svelano che ci sei passato già ma la si vive solo guardando avanti i segni rivelano che ci sei passato già la ruota va e continua anche se cadi gli stessi ostacoli se ci sei passato già ora la strada è più facile sai come abbatterti anche sola camminerò mi amerò per come sono e perciò che ho in salita non frenerò così senza piatto mai più mi fermerò serve per riprenderci e raccrescersi sbagli per cui migliorarti anche sola continuerò questa alte camminerò di desideri infanti nelle decisioni di emozioni ma ma And just continue doing what you're doing. You know, you're on the right path. 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 You know. You're on the right path. You know, to critique it more, I would have to be hearing things better. You know what I mean? But as far as what I'm hearing, you know, it's good. You know, you can always, you know, critique something more, you know, always. But there's a part where you'll have to stop too as well, you know, and let it go on, you know. As far as what I'm hearing, it's good. Just continue doing what you're doing. Beh, praticamente complimenti. Siete sulla giusta strada, continuate a fare quello che fate. Magari sempre con il riverbero non si sente benissimo, però da quello che può sentire... Yeah. This one is called Love University. Okay, that's the... And this is in English, so please judge. Attends in love, university. Attends in love, university. Write a song, it's more than what you think. For so long, messages went wrong. Calling on for something to change. But they understood that it's our own world. Unity is our universal key. If you want to realize anything. A special set part is nothing without question. Share your energy. You got a team positive. Music is the answer when you need to purify your mind. Music has the power to wake up feelings hidden deep inside. Give love and blessings when you sing, using words of unity. Peace and positive vibration and good messages to give. So with your crazy homophobia, it's all about hypocrisy. Passing and fighting are the must of an insane mentality. When the song is more than what you think. For so long, messages went wrong. Was it long for something to change? But they understood that it's our own world. Unity is our universal key. If you want to realize anything. A special set part is nothing without passion. Share your energy. You got a team positive. Spread your energy to the people. As if you were singing in front of a mirror. Follow me, follow me, brothers. I am good by zero. Man rule in the school is good over evil. Lesson one, love university, education, love and harmony. Lesson two, no pornography, no porosity, we're feeling fiery. Lesson three, metal, heavy unity, promoting good music every day. Lesson four, keep on studying, say they're rich, show the grip. Like the song is more... Once again, nice. Nice. Just to show you that we are researching into a lot of... different music at the moment. Do we start wanting to... It's interesting because it's we ladies, like two ladies, so it's a ladies perspective in terms of lyrics too, in terms of vibes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Adesso appunto quello che volevamo dire a lui, che proprio perché crediamo che la musica sia bella, come lui crediamo che importi la bella musica, al di là di tutto, dei generi, di qualsiasi altra cosa, volevamo far ascoltare appunto questo pezzo da 90, il mio secondo disco, pezzo da 90, che è un pezzo, in realtà un pezzo soul. Proprio perché crediamo che il soul, il reggae, il rap sia tutta un'unica famiglia di musica che venga dall'Africa, quindi... Raps, soul, soul, cacalypso, samba, merengue... Right, right, right. ...and all'unica famiglia di musica che venga dall'Africa, quindi questo è un soul song. Ok. Questo è la nostra produzione e il nome è per i bambini. È solo Maria, non è Maria e Miss Michele. È solo un progetto. È solo un progetto. She keeps her baby on her breast Sorted to become a peace of her own heart Look ahead of you There's a life awaiting God, time to learn, time to go wrong Time to amend Live your life till the very end It's for a try so you don't give up Nothing like a mother's fear To lose her baby without last kiss Many days she cries, she can sleep at night She feels something bad is going on She knows who's treating right She knows who's treating wrong Give her defense and protect him Never forget the time It was all a little flower Look ahead of you There's a life awaiting God, time to learn, time to go wrong Time to amend Live your life till the very end It's for a try so you don't give up You deserve more than this world offers You don't deserve to suffer Little child I'm gonna try to find a way to keep me safe from home I said I'm praying to you God God, peace Bless the babies I'm still having the problem in terms of production I'm still having the problem with the hi-hat Yeah, yeah You like the hi-hat is still buried The other two too The other two too You know, it's more than this one In terms of high, you know I still could hear it a little bit more In the other two But this one definitely more You know, like You know, supporting you You know what I mean? The rest there supporting you But the hi-hat You have to listen too much for it But excellent vocal Excellent vocal Penso si sia capito Anche in questo caso Bellissimo Ma magari sarebbe stato perfetto Con un po' più di Charleston Che sottolineava la sua voce We just want you to listen Just one minute of this stuff Just to let you know How wide Wide, wide Your perspective Right, right We are not into Now Not too Okay, okay Ma, 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 mia Que la negritudine sia con voi Alleluia Alleluia Ti porta al centro Del monde Di ogni città Explode nel petto Adesso non ti puoi più fermar Schiavo del ritmo Su da via Babilonia E musica pura Scaccia il buio della malvagità Parti con i piedi Scaccia il male Se ci credi Saltela come una mollella Buttala fuori Con le mani Baccana Fino a domani Fino a quando io non dico Stop Scu Squanti la testa Suodala la pepe Stop Melodia che il male elimina Muovi il bacino Come dondo Lui un bambino Se ce la sentirà E la tua Leggo il colt Leggo il colt Show yo Leggo il colt Leggo il colt Show yo Show yo Leggo il colt Leggo il colt Show yo Leggo il colt Show yo Leggo il colt Leggo il colt In quel Tampuro Vive Africa In ogni battito C'è libertà Entra nel sangue Accende l'anima Accende l'anima Accende l'anima Accende l'anima Accende l'anima I'azienda Questa è molto bella In termini di ritmo c'è più equilibrio ed è meglio Grazie. E poi voglio mostrare a te Zimuno. Ah, ok. Questo è un nuovo ragazzo del nostro record. Hai conosciuto già? Sì, sì, sì. Ha fatto alcuni hip hop e alcuni... Ha fatto molti cose, ha fatto elettronica. Ma che vuoi mostrare? Una gazzola. Una gazzola. Nice. Faccio sentire? Che cosa? Faccio sentire una condizione. Posso... Ok, accendere, ci si parte. Vai. Prova. Ah, perfetto. Mi chiamo Simone, produco da... Sono dieci anni, ho iniziato a produrre musica hip hop, a tagliare i sample, come si suol dire dieci anni fa, a cantare, a fare musica rap, quindi a cantarla anche. E ho avuto... Diciamo che attualmente non produco più proprio musica hip hop, cioè diciamo radicale, quindi solo sample, batteria secca. Ho cambiato un po' mentalità, ho voluto comunque avere delle influenze esterne e altri tipi di musica. Ovviamente, come dicevamo ieri, music is music. Quindi, cosa sta cercando di fare? Non è solo la forma classica di fare rap, sta facendo un po' sampling, un po' di mix, da altri suoni e cercando di trovare il suo proprio modo. Certo, certo, certo. Ho creato un progetto che, se possiamo dire, che parte praticamente dall'hip hop e poi in questo disco, che è solamente di strumentali, quindi solo sulle produzioni, si inizia a contaminare con l'elettronica e altri tipi di influenze. Io ora faccio ascoltare la prima traccia che è l'intro praticamente del disco, che è un provino, che parte ovviamente direttamente dall'hip hop e ho voluto campionare un disco... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Buongiorno. 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 questo è un ritmo a New Roots che ho prodotto quest'anno New Roots Rhythm Dawn in 2013 ho prodotto degli artisti internazionali che hanno fatto Deadly Hunt, adesso ce ne ho pochi che hanno cantato sul ritmo quindi già avevano i corti vocali, ma bisogna lavorare sulle, ora abbiamo solo l'instrumento a New Roots Rhythm a New Roots Rhythm a New Roots Rhythm io avevo pensato di fare una cosa terzinata nel senso, terzinato con il basso diciamo a New Roots Rhythm a New Roots Rhythm a New Roots Rhythm a New Roots Rhythm diceva che gli piace molto soprattutto le basse, soprattutto il giro di basso Emanuele stava dicendo che aveva iniziato con un basso con più note, più terzinato, poi le ha tolte e lui ha detto perché non sempre ma molto spesso la sottrazione è molto salutare l'essenzialità a New Roots Rhythm 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 Grazie bene Bene questa è un artista invece che è lei Grace io ho fatto il ritmo e poi ho fatto una versione dub di questa canzone quindi adesso faccio ascoltare prima il rhythm con la canzone questo è un altro ritmo dove ha scritto una canzone lei poi ho fatto la traccia dub di questa canzone adesso faccio sentire prima quindi è un altro ritmo e la voce è la lady over there e Emanuele ha fatto il corte vocale e poi un dub quindi inizia dal vocale e poi ascoltare il dub Emanuele ha fatto la canzone Noi Emanuele Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti